Messina subisce un altro brutto colpo sulle morti sul lavoro. La morte di Salvatore Marchetta è una morte che lascia sgomento a tutta la popolazione ma soprattutto deve far riflettere tutto il mondo del lavoro. Non è più possibile continuare ad andare avanti con persone che perdono la vita nei luoghi di lavoro. Noi come Cisdlo ovviamente diamo la massima solidarietà e vicinanza alla famiglia di questo lavoratore, di questo giovane lavoratore che ha perso la vita. Continuiamo a lavorare tutti insieme per poter invertire la tendenza su questo tema e a battere e portare a zero le perdite nei luoghi di lavoro. È inaccettabile in un paese civile che ancora si vada a lavorare e si perde la vita.